Cari amici che partecipate all'iniziativa del quotidiano in classe, buongiorno, sono Xavier Ecobelli, direttore di quotidiano.net, l'edizione online dei giornali della Poligrafici, editoriale di Bologna, Quotidiano Nazionale e il resto del carlino, La Nazione, Il Giorno. Dopo il successo dell'edizione passata, riprende il nostro filo diretto sul web. Ogni settimana proporremo alla vostra attenzione un tema, un argomento sul quale intervenire via web con i vostri post, con le vostre sollecitazioni, con le vostre considerazioni per rendere costante questo rapporto, questo dibattito, questo dialogo fra le nostre testate cartacee e anche online e la vostra esperienza quotidiana di appassionati del quotidiano in classe. Questa iniziativa che consente a milioni di ragazzi di avvicinarsi ai quotidiani, di leggere un quotidiano nella propria scuola.